Immagina una sedia. È una sedia che gira, che si piega, che si inclina. Una sedia o una poltrona? Una sedia con quattro gambe, con tre o magari nessuna? Una sedia ergonomica, che si accomoda, o almeno colorata. Così colorata da diventare iconica. Talmente folle da essere anni 80. Dopotutto, una sedia è una sedia. Anche perché consideriamo ciò che conta. Ti ci puoi sedere sopra, no? Super! Super nuovo, super unico, super salone. 5 settembre, Fiera Milano Raw.